Buonasera a tutti. L'anno 2011, il giorno 18 del mese di novembre in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, presta giuramento l'ammiraglio Giampaolo Di Paola, Ministro della Difesa. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Del giuramento del Ministro Di Paola, prestato oggi, 18 novembre 2011, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è stato redatto distinto verbale, firmato dal giurante, dal Presidente della Repubblica e dai testimoni. In grande onore.